L'intervista è di Michele Renzulli. L'intervista del Tg1 al Premier ha fatto rumore, eppure non è certo la prima volta di un capo del governo su un Tg della Rai. Si può dire che volete passare dalla fase dei sacrifici a quella dell'abbassamento delle tasse? Sì, mi sembra una sintesi giusta. Ovviamente, quella volta nessuno si sognò di contestare alcunché. Questa invece, non solo contestazioni ma anche falsificazioni. Come quella che ha operato il Fatto Quotidiano, che ieri sul suo sito internet riportava l'intervista con il taglio di due domande su tre, riducendola da quasi 4 minuti a 2.22, solo per dimostrare che si era trattato di un monologo del Premier. Come direbbe Travaglio, che del fatto è vice direttore, la notizia è stata abolita per non disturbare l'opinione.